Buonafini, Monta l'attesa in città per la sfida che deciderà un campionato. Domenica prossima col corso Palermo si deve vincere ed è chiaro che la città si deve stringere attorno alla squadra. C'è una Serie D da conquistare. Voi siete pronti e la Serie D vi aspetta? Sì, noi stiamo preparando la partita come tutte le altre. Sappiamo che è una partita in cui con una vittoria festeggiamo la vittoria del campionato e quindi domenica abbiamo bisogno oltre al pubblico che ci dia una grande mano ma noi cerchiamo di regalargli questa bellissima gioia. Tornando indietro di qualche giorno, cosa è mancato a Paceco per fare il risultato col Dattilo? A Paceco siamo andati lì per vincere. Credo che abbiamo fatto un'ottima gara. Peccato per l'episodio del calcio di rigore ma credo che i punti, il pareggio, era il risultato più giusto. Il calcio è anche questo, gli episodi sono fondamentali. In questo caso è andato a favore del Dattilo e quindi ci rimbocchiamo le maniche. Per noi cambiava poco perché in ogni caso anche una vittoria contro il Dattilo potevamo festeggiare ma contro la Cusse dovevamo vincere ugualmente. Quindi cambia ben poco. Noi siamo sereni, siamo sempre i primi della classe. Abbiamo due punti sempre davanti agli altri quindi per noi cambia poco. Il tuo gol domenica scorsa poteva significare promozione diretta se vogliamo e invece non è stato così. Sì, peccato più che altro al delà del gol eravamo passati pure in vantaggio contro una grande squadra che è il Dattilo e credo che il Dattilo l'ha dimostrato per tutto il campionato. Non per caso per tanto tempo è stato lì prima in classifica. Però, ripeto, preferivo una vittoria o almeno un pareggio del gol. Però, ripeto, cancelliamo e mi auguro di potermi ripetere le domeniche. Magari può essere quello che ci regalerà la gioia. Poter vincere col Gela per Bonafini che significato ha vincere il campionato, intendiamo? Per me intanto è un motivo d'orgoglio perché vestire la maglia del Gela per me è un onore. Esserlo da capitano ci tengo veramente perché scrivere la storia con questa maglia non apprezzo. quindi domenica faremo di tutto per cercare di scrivere una bellissima pagina di storia che questa società e questa città merita veramente.